Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, oggi andiamo a parlare di 2List Nexus ma più in particolare, dato che questo canale oltre per gli aggiornamenti è nato per farsi teorie a caso ma neanche troppo perché fondamentalmente alcune ci azzechiamo andiamo a parlare di un ipotetico starter deck che in realtà potrebbe anche uscire fuori prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati col mondo di Yugi mi raccomando è importantissimo, grazie mille, andiamo, vabbè sappiamo che 2List Nexus da noi avrà 100 carte quindi ovviamente ci saranno 20 carte per il TCG, uscirà a luglio, fine luglio e andiamo un attimino a fare delle, a vedere delle piccole conferme perché il tipo Illusionist sarà Illusion il Nightmare Magician, quindi vabbè i nomi saranno diversi da quelli OCG ma tanto noi ormai ci affidiamo a quelli OCG perché ci rimangono in testa da quelli però comunque sarà quello lì cos'è la cosa che mi ha fatto venire in questa piccola teoria a mente? questo qua 2List Nexus introduce per la prima volta un nuovo tipo di mostro dallo Starter Deck Cybers del 2017 tan 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 Starter Deck allora partiamo dal presupposto che comunque gli Starter Deck escono ogni volta che esce o esce un anime oppure esce un nuovo tipo di carta nel senso Link, Xyz, Syncro eccetera oppure come fu per GX quando uscì appunto GX e ci fu lo Starter Deck è ok però al momento non credo ci siano nuovi anime di Yu-Gi-Oh! in programma penso che arriveranno e quando arriveranno ci sarà credo lo Starter Deck però fondamentalmente il tipo Illusionist potrebbe essere quella tipologia di mostro che può essere impiantato in uno Starter Deck nuovo che crea pill che potrebbe far tornare vecchi giocatori perché comunque il tipo Illusion è uno di quei tipi che si affaccia tantissimo allo Yu-Gi-Vecchio ma tantissimo ma veramente tanto non so se ci puoi fare uno Starter basato su un mago senza volto anche se non credo quello rimarrà incantatore comunque potresti fare uno Starter nuovo con 4-5-6 mostri Illusion che fanno quello che devono fare e il resto carte da Starter solite Starter che se qualora volessero farlo potrebbero o inserirlo come il terzo mazzo di quest'anno però credo che è molto più probabile che esca uno StruturTechR oppure potrebbe essere rimandato magari 2024 quando verranno loro fondamentalmente è uno Starter Deck che potrebbe essere plausibile anche qualora ci fosse un nuovo anime o un nuovo tipo di carta appunto perché queste carte Illusion sono fondamentalmente nuove e quindi sono quelle che possono prendere più piede magari possono partire da questo punto per creare un qualcosa di interessante quindi ovviamente ripeto partono sempre da un anime ma dato che magari l'anime non c'è e vogliono magari concentrarsi sul gioco di carte potrebbe uscire uno Starter per avvicinare i giocatori ai nuovi giocatori in una maniera figa, nuova e abbastanza interessante perché ok, strutturo, 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 ma nelle volte anche degli Starter sono necessari secondo me, poi vabbè potrebbe essere tutto un fuoco di paglia e potrei aver fatto, potrei aver preso un grandissimo abbaglio però insomma secondo me uno Starterino con queste nuove tipologie di carte non potremmo trovare, secondo me ci sta comunque è confermato punto tipo Illusion e vabbè noi mostri sincro con l'assol sincro che arriverà da Battle of Legends quindi carte infernova l'avevamo visto tutto abbiamo visto il set completo mancano le 20 carte che dovranno ovviamente mettere in TCG che sapremo praticamente due settimane prima dell'uscita una settimana prima dell'uscita del set e che poi ovviamente andremo a vedere e ovviamente ci sarà anche Regapone e tutto il resto detto questo ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate se secondo voi è possibile, plausibile un nuovo Starter di questo tipo ovviamente sono soltanto teorie e opinioni personali nulla di confermato, nulla di giusto perché comunque ovviamente potremmo prendere un abbaglio però insomma a noi ci piace soprattutto a me piace poi vedere i commenti della gente che inizia a teorizzare ed è fichissimo è una cosa che mi piace tantissimo e detto questo appunto fatemi sapere noi poi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti e quindi e quindi e quindi e quindi